Serata fantastica per la Sidigas Avellino, una serata che regala un clamoroso accesso alle Final 8 di Coppa Italia. I bianco-verdi superano con il finale di 88 a 76 l'Umana Venezia. I tre K.O. di Brindisi, Caserta e Cantù, nell'ultimo turno del girone di andata, determinano il pass Coppa Italia per i ragazzi di coach Sacripanti, che ottengono a domicilio la quarta vittoria nelle ultime sei gare. L'avvio di gara contro i Lagunari è equilibrato. Scarti minimi nella prima frazione con Avellino che chiude avanti di quattro con gli appoggi di Buva al primo intervallo. Bramos accende il match da oltre l'arco. Il greco è seguito da Res che regala il mini vantaggio Reier al sedicesimo sul 28-32. Avellino controlla bene la fase delicata grazie a Beikalas. Il lituano colpisce da tre e sul finale di primo tempo Severini firma il meno due con cui si rientra negli spogliatoi. In avvio di ripresa l'impatto di Venezia è deciso. La schiacciata di Owens vale il più sei al ventunesimo. Ma Avellino si scuote, un break di 12-2 ribalta l'inerzia. È un'ottima fase per la Sidigas guidata da Green e Cervi. La Reier è però abile a limitare i danni con Ruzierne sul finale di terzo periodo. A questo punto però sale in cattedra Joe Ragland. Due triple dell'ex Piner lanciano Avellino sul più dieci in apertura di ultima frazione. Doppia cifra di vantaggio confermata poco dopo da Ivan Buva e Riccardo Cervi che fanno scorrere i titoli di coda sul match. Finale di 88-76 è attesa per i risultati dagli altri campi. Cremona sorprende Brindisi, Trento supera Caserta, Varese vince il derby con Cantù e apoteosi Scandone, vittoria e Final 8. Si materializza l'unica possibilità alla vigilia. In Coppa Italia la Scandone affronterà ai quarti di finale la Grissin-Bon-Reggio Emilia, campione d'inverno.